Ieri, sei andata bene? Per me sei pronto per il tuo primo volo suolo, quindi questa volta io non salgo e ti guiderò da terra. Ti sicuro? Sicurissimo. Sei pronta? Poi faccio. Calcinate il dioschironio, cavoteo sviluppato e pronto a partenza. Calcinate il bravo bravo decolla, pista 28 per 600, carburante controllato. Andiamo Irene. A descrizione. Durante il mio primo solo ho provato un sacco di emozioni che mai potrò scordarmi. È un giorno indimenticabile e che farà parte per sempre della mia vita. Il volo è una passione che viene innanzitutto da dentro, dall'interno proprio dal cuore. Si sente che deve uscire, spingere verso il cielo appunto. E viene anche dal cielo perché è qualcosa che c'è e non si sa perché. Si sente il cielo, non si vede. No. 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 desiderio, anche questo, che punta verso l'alto, quindi diverso dal vivere comune e dalle sensazioni comuni a cui tutti siamo abituati ogni giorno. Un volo In realtà non mi sono neanche resa conto di essere sola, perché era come se fossi sempre seguita e guardata e anche l'emozione certo non manca, ma quello che importa di più è essere sempre aperti a nuove prove che dobbiamo affrontare nel quotidiano. Irene è una sognatrice, una sognatrice appassionata di non di tutto, ma della vita. Irene ama la vita, ama il volo, ama il cielo, ama anche la terra, ama tutto. Calcinate in piscina 1-1-0. Bene, 100 l'ora, 100 l'ira più. Bene, bene. Io sono Irene e oggi ho realizzato il mio primo sogno. Ciao. 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 Grazie a tutti